Buongiorno, anche oggi continueremo lo studio dei singoli ambienti che compongono un'unità abitativa in particolare questa mattina analizzeremo la cucina ho scelto un ambiente molto semplice, praticamente quadrato con la parete finestrata solo su un lato, ha due accessi molto probabilmente uno dei due porta al soggiorno o alla zona pranzo a seconda se la casa è molto grande qui la distribuzione della parete attrezzata è su un unico lato della cucina non mi sembra manchi niente, però è molto semplice, molto schematica nel progetto sono stati lasciati liberi ad esempio questi due angoli che invece potrebbero essere riempiti con dei mobili che servono sempre alla cucina anche in questo caso si poteva a mio avviso scendere un po' su tutti e due i lati in modo da creare anche una sorta di abbraccio insomma di dare un senso di completezza a questa cucina perché altrimenti abbiamo soltanto questa parete con il tavolo e quattro sedie al centro un'altra cosa, il tavolo può essere anche, dato lo spazio, può essere anche più lungo si può arrivare fino a un tavolo per sei io sconsiglio sempre ad esempio il tavolo rotondo perché occupa molto spazio preferisco il tavolo rettangolare mi sembra più funzionale in questo caso, come ti dicevo, può benissimo essere portato può essere realizzato un tavolo con sei posti ecco quindi io ti chiedo di ridisegnare questa cucina cambiando l'arredo pensando anche a questi due angoli perché sono vuoti ma non perché sono vuoti perché sono spazi di fatto inutilizzati che invece potrebbero servire all'uso funzionale di questo ambiente con questo ho finito ti saluto e ti auguro buona giornata ciao